Questa è la fattoria della signora Oniglia. Questo è un antico cippo del 1789 che doveva essere un confine tra la Toscana e Genova. Allora, questo è Argo che quando ha saputo che ho fatto i filmini ai gatti e dice, perché non gli fai i filmini anche a me? Senti come questa è un'esibizione addirittura da premio Nobel. Salute! Salute! Argo, dove vai? Hai finito l'esibizione? Dov'è la tua padrona? Aspetti eh? Aspetti con molta pazienza. Questo cane è piccolino ma è cattivo da morire. La guardia non la fa. La zuppa la mangia. C'è due o tre mogli che abitano nelle colline di fronte. Argo, hai fame? Questa è la mia ombra. Facciamo un bel primo piano di Argo. Bene. Queste sono le bombole del gas. Bene. Adesso iniziamo anche la serie di Argo.